Buongiorno buongiorno a tutti con le pagelle di ieri, poi oggi sarà una giornata focosa vi invito a seguirmi sui miei social, su Instagram perché poi alle 16 ci sarà la live dove si parlerà ampiamente del caso di Inter-Verona, degli audiovar di Genoa-Inter il complotto, Zazzaroni, insomma ne avremo di cotte e di crude con Bergomi, Faina quindi vi invito assolutamente a seguirmi perché oggi ci sarà molto molto da discutere ma adesso tuffiamoci nelle pagelle, nelle pagelle della partita di Empoli Mignan voto 7 perché è passato in sordina ma nel momento di difficoltà del Milan nel secondo tempo in quei 20 minuti in cui l'Empoli aveva preso il pallino del gioco in modo vergognoso devo ripetirlo perché è impossibile che Emina stava riuscendo a buttare alle ortiche i punti anche ad Empoli ma Ic Mignan ha salvato la situazione in due frangenti in particolare e su quello dobbiamo ringraziarlo è un valore aggiunto per la nostra squadra, è inutile continuare a delogiarne le doti perché ormai è anche un insulto alla nostra intelligenza fingere di non sapere di avere Mignan cioè quando hai Mignan sai che qualche punto aggiunto tu ce l'hai, è così Calabria, voto 5, ieri era in versione horror, fa una partita pessima prende un cartellino con un fallo di una stupidità incredibile perché guardate era in ritardo c'era Kier che copriva, bastava dargli il raddoppio di marcatura e coprire lui entra scivolata perché vuole prendere la palla e prende una munizione stupida che poi costringe Piole al cambio purtroppo Calabria continua ad avere questi limiti ma che ormai non sono limiti e questo è Calabria, sono dieci anni che è così, non migliora e non peggiora, questo è Calabria Kier voto 6,5, partita ordinata, partita disciplinata, si mette al centro della difesa fa il suo, da ottimo centrale, da quando è tornato il Milan ha aumentato il numero di Clichit durante le partite, quindi Kier ha un suo peso specifico, al netto delle ironie sul fatto che fosse sempre rotto eccetera e speriamo di non perderlo più nel corso della stagione Teo Hernandez, l'ho detto nei video di ieri, per me il miglior in campo, voto 8 fa avanti e indietro pur essendo centrale di difesa questo te lo puoi permettere quando giochi con un avversario come Lempoli che non è un avversario di grande manovra, di grande velocità in contropiede difensivamente Teo Hernandez fa dei buonissimi recuperi, ha imparato a fare le diagonali sta migliorando come centrale, è chiaro che io lo adoro terzino, vorrei vederlo terzino sempre e comunque, però va detto che sta molto molto migliorando in quel ruolo Florenzi sinceramente senza voto, ha fatto mezz'ora, ma è stata una mezz'ora abbastanza anonima sei un 6 politico, Chimenez invece gli diamo un 6 più, è entrato con grande personalità si vede che il ragazzo ha personalità, ma non è un caso, a Real Madrid non ci arrivi per caso ha personalità, punta l'uomo, ha voglia di farsi vedere, si mette in gioco anche fuori ruolo perché ricordiamolo a sinistra non è il suo ruolo, poi a destra viene impiegato in una fase della partita in cui il Milan aveva tirato il freno a mano, però lui si vede proprio che ha voglia di mettersi in mostra Adli 6, non l'Adli della Coppa Italia, ma neanche il pessimo Adli delle uscite precedenti della Coppa Italia fa una partita abbastanza ordinata e io continuo a dire che Adli tocca troppo palla tocca troppo palla per giocare davanti alla difesa, poi quando le cose vanno bene la gente non lo fa notare ma io lo faccio notare sempre perché sono coerente con me stesso e pulito secondo me Adli tocca troppo palla lì davanti, però ad Empoli tutto sommato danni non ne ha fatti Reinders e Loftus Chic per me sono entrambi da 6 più Giostra nel centro campo, Reinders fa una fase molto più di copertura rispetto al solito si vede meno in proiezione offensiva dove si vede di più Loftus Chic che ha notoriamente un piede migliore nel tiro di Reinders infatti alla prima buona occasione di inserimento sull'assist di Leao fa gol Chaka Traoré subentrato dalla panchina io lo considero un centrocampista per me 7 perché entra, segna, si fa vedere, è nel vivo dell'azione è un giocatore che è in palla, è un giocatore che è in fiducia per quanto a me non esalti tantissimo come giocatore però nulla da dire, sta facendo bellissimo Musa 6, anche lui entra in modo ordinato non incide anche sulla partita, né in positivo né in negativo Leao, voto 6 per l'assist ma la partita è sotto tono io continuo a dire, ragazzi, ve lo sto dicendo non so da quante settimane, secondo me non sta bene secondo me Leao ha dei postumi dell'infortunio che ancora non ha smaltito non è possibile che Leao non riesca a saltare in uno contro uno Giasi con tutto il rispetto per Giasi ma Leao era quello che si mangiava alla difesa del Napoli campione d'Italia cioè Leao ha qualcosa che non va fisicamente perché io lo vedo la corsa è farraginosa non è pulita non è che lo sta bene ha qualche postumo dell'infortunio che ancora non ha smaltito non è il Leao, non è in forma Leao non è in forma per me non è in forma poi, per carità, lui ci mette del suo è sempre caracollante, scostante nell'atteggiamento però io sono convinto che se Leao ritrova la forma i suoi 10 gol da qua a fine stagione li fa perché Leao non può essere peggiorato così Giroud allora, Giroud fa il rigore per il resto è un fantasma in campo sembra che io mi accanisca su Giroud però è il secondo miglior marcatore del campionato dopo Lautaro ma la maggior parte dei gol li segna da rigore ma i rigori li devi saper segnare ma se gli stai segnare non fai il rigorista e va detto pure questo quando uno dice i rigori bisogna saperli segnare sì, ma se non li sai segnare non fai il rigorista quindi non ti meriti di fare il rigorista e non fai quei gol da rigore è chiaro che la maggior parte li devi segnare oltre al fatto che uno l'ha sbagliato in Champions League non è un accanimento contro il Giroud però io lo ripeto Giroud ha un'età per la quale va utilizzato col contagocci ieri secondo me era il caso di far giocare Jovic perché se Jovic fa tre partite di fila di cui una magari da 60 minuti ieri non è che ne risende perché è giovane perché ha voglia di dimostrare ha voglia di mettersi in gioco ha un contratto per il quale deve dimostrare qualcosa ha giocato Giroud lui ha segnato bravo a segnare il rigore per il resto in campo è come giocare in dieci perché tutte le palle che gli arrivavano lui le sprecava ma ripeto non è un attacco a Giroud per me è l'attacco a come viene usato Giroud Pulisic giocatore magnifico giocatore sublime giocatore perfetto che nel finale di partita fanno uno scatto per regalarti il 3-0 a Chaka Traoré e lo fa in modo esemplare senza cercare gloria personale eccetera magnifico Pulisic veramente la più grande sorpresa che ho ricevuto dal calciomercato 7,5 Bartesaghi senza voto Pio li voto 6 sufficiente nel senso che prepara un ottimo primo tempo ispirabilmente il Milan crolla nel secondo tempo quando è avanti 2-0 lo fa Salerno lo fa Lecce il secondo tempo di ieri è una vergogna poi il Milan la vince 3-0 perché è bravo a riprendere perché è più forte dell'Empore e tutto ma il secondo tempo di ieri è la fotocopia del secondo tempo di Lecce dove cambia il risultato i cambi sono sempre un po' fantasiosi perché tu hai il centrale di ruolo poi lo metti più tardi inizialmente prendi Chimenez lo metti fuori ruolo poi lo sposti poi metti Bartesaghi Jovic non entra proprio perché deve fare la Coppa Italia è tutto molto fantasioso però ripeto quando si vince la gente queste cose non le vuole neanche sentire ecco tanto già lo so nei commenti ci sarà chi dirà eh ma tu critichi sempre no io non critico sempre sono contento del risultato di ieri ne ho gioito ho elogiato le cose che andavano elogiate e faccio le dovute critiche alle cose che ritengo sbagliate ritengo un'ipocrisia assoluta e chi critica solo quando si perde ecco quelli sono dei testati ecco qua ci siamo capiti seguitemi oggi su Twitter Instagram e TikTok mi raccomando perché oggi succede il bordello col VAR il contro VAR potrebbe anche arrivare un mio video in serata iscrivetevi al canale se siete già iscritti attivate la campanellina delle notifiche forza Milan